Fighi, Gazzola, questa è l'unica sostituzione che è stata fatta in questo inizio del secondo tempo, adesso lo spiega che dà appunto la sostituzione di scontrato l'argentino al posto di Gazzola. Attenzione da parte della Roma, che attacca con il capitano, carica al destro! Un destro omicidiale, un destro omicidiale, un presto fuoco al pallone! Ha preso fuoco al pallone, un grandetto la parte del capitano, nulla da fare per Polito! La Roma è entrata in campo, la Roma è entrata in campo ufficialmente, il capitano segna il suo terzo gol in Coppa Italia! La Roma inizia la sua partita proprio all'inizio del secondo tempo, il gol al primo minuto, un destro omicidiale da parte del capitano! Polito non può fare altro che guardare il pallone dietro di sé! Veramente un destro omicidiale da parte del capitano, Roma che è fatta in vantaggio! Dopo un minuto, dal momento in cui la Roma è entrata in campo, è ufficialmente entrata in campo adesso! Nel primo 45 minuti c'erano altri, c'erano praticamente dei sossi che erano venuti a fare del riscaldamento e adesso 45 minuti è entrata la Roma!